Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l'Accademia di Riccardo Muti riparte con Cavalleria Rusticana e Pagliacci. La scuola che il maestro ha voluto a Ravenna ha dovuto rivoluzionare i propri calendari, con le selezioni che sono state stravolte. L'Accademia è un progetto di formazione sostenuto da privati e l'ultima scommessa di Riccardo Muti, che per anni ha lottato per cercare di ripristinare, ad esempio, lo studio della musica nelle scuole. Questa struttura ha lo scopo di scoprire talenti in tutto il mondo e di dare una possibilità ad alcuni di loro.